Mi aspetto proprio come hai detto te Tosta, penso che l'anno scorso in due partite meritavamo molto di più, tutte e due, invece questo anno penso che ci è andata bene, anche se veramente eravamo in emergenza totale, però ci è andata bene. E' una squadra che arriva da tanti risultati utili, anche contro grandi squadri Inter e Atalanta, adesso vintano contro Spezia, difficilmente prendono gol, ma anche organizzazione difensiva, non solo fisicamente, sono una squadra più dotata, una delle squadre più dotate, ma anche organizzazione difensiva, ma in generale una squadra molto organizzata. Ci aspetta una partita, ma come tutte, difficile, con cose che possiamo far bene e quelle dove dobbiamo essere bravi. Poi noi abbiamo perso Ceccherini, che sempre quando c'è un problema poi si aggiungono altri, il resto del gruppo pian piano stanno recuperando sia Viera sia Sturaro, che hanno fatto una parte di allenamento con noi. E' quello, penso che abbiamo fatto una buona settimana alla fine. Io sono strassoddisfatto come siamo cresciuti in un anno e mezzo, ma anche questo acquisto di lasagne è un segnale del Presidente che ha cambiato. Io lo vedo così, che ha detto va bene, comincio a fare qualcosa, ma noi se voi prendete squadre che sono sotto di noi, anche l'anno scorso sono rimaste sotto il Parma, mettiamo Cagliari, mettiamo Torino. Cioè Parma ha speso 70-80 milioni l'ultimo anno senza vendere un giocatore. Stiamo parlando di questo, di là, e quando io vado a collocare l'Elas, io sono strassoddisfatto perché vi ho detto, c'è un anno e mezzo che noi stiamo crescendo, dove ci collochiamo? Siamo appena all'inizio, se ci salviamo miracolo, ma proprio così, come Rosa. Poi sì, continuiamo, il Presidente ha dato un grande segnale, secondo me, con l'acquisto di lasagne, dove magari si apre un'altra epoca del Verona, dell'Elas come costruzione, allora cresceremo, andremo. E anche quando fai tutto bene, che io penso che tante società l'hanno fatto bene, Cagliari, Torino, che hanno fatto mercati giusti, cose così, ti va male. Per cui collocare da qualche parte mi viene difficile. Io in questo momento ritengo che abbiamo una squadra, una rosa all'altezza, lo possiamo dire così. È la prima volta che giocano insieme, però le caratteristiche sono abbastanza chiare. Delofeo è un grande giocatore, uno contro uno, profondità tecnica. E gli orenti sappiamo che tiene bene la palla, che è tosto fisicamente. Insieme non sappiamo come si comportano, loro normalmente sono 5-3-2, abbastanza classico, mettiamolo così. Ci aspettiamo quello, poi ci dobbiamo sicuramente adattare sulle qualità dei giocatori.